Benvenuti a MeteoGiulianci.it. Oggi mercoledì 22 febbraio, sereno su gran parte del centro nord perché qui si sta allungando l'alta pressione dell'anticiclone dell'Azorre. Ancora pioggia invece su Abruzzo, Molise, Isole Maggiore e al sud per un vortice di bassa pressione centrato sul Golfo Libico il quale invia forti venti di Scirocco sulle regioni meridionali e del medio adriatico. Ma vediamo l'immagine del satellite delle ore 6, vedete appunto le nuvole che ricoprono soprattutto le regioni meridionali e le isole maggiori. Che tempo l'ora farà oggi? Vedete il sereno su quasi tutto il nord, sereno anche gran parte del centro, nuvole sul medio adriatico e al sud con piogge su Abruzzo, Molise e tutto il meridione tranne la campagna, piogge anche sulle isole, piogge di forte intensità sulla bassa Calabria e sulla Sicilia orientale. Per quanto riguarda le temperature queste saranno in ulteriore rialzo su tutta l'Italia. Bene termino qui, vi ringrazio per l'ascolto, ancora un buongiorno.